Renzi racconta agli italiani di voler tagliare i costi della politica per un miliardo con il Senato. Ma noi chiediamo a Renzi e al PD perché hanno voluto dare alle banche 7 miliardi e mezzo di euro col decreto Immobanca d'Italia? Perché Renzi e il PD non restituiscono un miliardo di euro di rimborsi elettorali dal 93 ad oggi? Renzi, restituisci i soldi.